Pace e bene a tutti i nostri telespettatori. I titoli di questa edizione del nostro telegiornale. Il Papa ha compiuto 77 anni. Papa Francesco invia i suoi principali collaboratori a confessare. Un piccolo dono natalizio del Papa ai poveri. Le donne nella Chiesa devono essere valorizzate e non clericalizzate. In India è stato dissacrato un antico crocifisso. Apriamo il nostro telegiornale con la prima notizia dedicata al nostro Papa che ha compiuto gli anni. Ha compiuto 77 anni. E in Vaticano sono giunte da tutto il mondo migliaia di messaggi augurali. A cominciare dalla sua città natale, Buenos Aires. In onore del Papa, i parrocchiani del decanato di Boca Barracas, una delle aree più popolose e problematiche della città, hanno trascorso la giornata nella plazza della Costituzione, dove è stata montata una tenda missionaria per accogliere gli invisibili della capitale. In questa piazza, a capolinea di autobus e della stazione ferroviaria, si riuniscono disoccupati, senza fissa dimora e prostitute. Era qui che l'allora arcivescovo Bergoglio celebrava tutti gli anni una messa per le vittime del traffico di esseri umani. In Italia, la Corte Costituzionale ha inviato tramite il segretario di Stato, arcivescovo Pietro Parolin, un telegramma nel quale porge fervidi voti augurali per la sua intensa e profonda opera pastorale, in difesa della dignità dell'uomo e della pace nel mondo. La stessa conferenza episcopale italiana ha inviato un messaggio ricordando il suo infaticabile ministero apostolico, che dispensa parole di vita e di misericordia, che aprono cammini e risvegliano speranza. La mattina del 17, Papa Francesco ha voluto che alla messa matutina nella Domus Santa Marta fosse presente il personale della stessa Domus, in modo da vivere in un clima particolarmente familiare le prime ore del giorno del suo compleanno. Il Vangelo della Messa del giorno, ricco dei nomi degli antenati di Gesù, ha dato occasione al Papa per ricordare, nel corso dell'Omelia, anche i nomi di alcuni dei dipendenti presenti. Ha concelebrato con il Santo Padre il decano del Collegio Cardinalizio, Cardinale Angelo Sodano, e il segretario di Stato, arcivescovo Pietro Parolin. Ha presentato gli auguri al Papa anche a nome dei suoi collaboratori nella segreteria di Stato. Mentre le lemosinieri di sua santità, l'arcivescovo Krajewski, nel porgere gli auguri al Santo Padre, ha presentato quattro persone senza fissa dimora, che soggiornano nel quartiere vicino al Vaticano. Papa Francesco ha invitato tutti, alla fine, a una grande colazione nel refettorio della Domus Santa Marta. Nella prossima notizia vediamo come il Papa invia i suoi principali collaboratori a confessare. Venerdì scorso, alle tre del pomeriggio, il prefetto della Congregazione per il Clero, l'arcivescovo Beniamino Stella, si è seduto a confessare come un prete qualunque nella chiesa del Santo Spirito in Sassia, dedicato alla Divina Misericordia, a pochi passi dal Vaticano. Lo riferisce la rivista spagnola ABC, sottolineando che è stato questo il primo passo di un'iniziativa di Papa Francesco, che vedrà la partecipazione di diversi cardinali e vescovi della Curia Romana. Durante la messa di domenica il rettore Josef Barth ha annunciato infatti che d'ora in poi sarà normale vedere seduti al confessionale di sinistra della parrocchia i principali collaboratori del Papa. Il confessionale di destra, infatti, è già occupato da Monsignor Konrad Krajewski, il nuovo elemosiniere di sua santità, che confessa i fedeli ogni giorno in quel luogo da molti anni. Inoltre, riferisce il giornale, il parroco ha spiegato che questa iniziativa, programmata già da qualche tempo, sarebbe dovuta iniziare secondo le previsioni nel mese di gennaio. Tuttavia, questa settimana, ha detto il sacerdote, abbiamo ricevuto la notizia che il Papa voleva che iniziassimo subito. Francesco ha insistito in diverse occasioni sull'importanza del sacramento della riconciliazione e sul fatto che confessare sia un dovere di ogni pastore. Lui stesso ha confessato alcuni fedeli durante le visite nelle parrocchie romane, come pure lo scorso luglio, nella giornata mondiale della gioventù. Monsignor Barth spera quindi che il pontefice possa venire qualche giorno a confessare nella chiesa, anche se non sappiamo quando. Un piccolo dono natalizio del Papa ai poveri, nella prossima notizia. In occasione del Natale, l'emlemosiniere pontificio Monsignor Konrad Krajewski farà avere a nome del Papa ai poveri, da lui incontrati o assistiti, un piccolo dono che possa essere utile. Secondo quanto riferisce una nota della Sala Stampa Vaticana, si tratta di 2000 buste che verranno distribuite nei luoghi dove vengono offerti i pasti e in altre occasioni, dalle suore di Madre Teresa, dai volontari che svolgono assistenza serale o dallo stesso elemosiniere. Ogni busta è già affrancata con francobollo vaticano, così da poter essere usata, ponendovi semplicemente l'indirizzo, per spedire auguri o saluti ai familiari o amici. Nella busta si trovano l'immagine natalizia firmata dal Papa, carte telefoniche e biglietti giornalieri per la metropolitana. La direzione dell'ATAC, Agenzia Comunale dei Trasporti di Roma, ha offerto 4.000 biglietti giornalieri per la metropolitana. Le poste vaticane hanno offerto i francobolli e la tipografia le buste. Le donne nella chiesa devono essere valorizzate e non clericalizzate. Una questione importantissima odierna sono le donne che nella chiesa devono essere valorizzate e non clericalizzate. Chi pensa il ruolo delle donne nella chiesa soffre un po' di clericalismo. Così ha risposto Papa Francesco alla domanda di Andrea Tornielli. Posso chiederle se avremo donne cardinale? Nel corso di un'intervista che si è svolta martedì 10 dicembre a Casa Santa Marta e che è stata pubblicata dal quotidiano torinese La Stampa. Alla domanda su come procede il lavoro di pulizia all'OIOR, il pontefice ha risposto che le commissioni referenti stanno lavorando bene. Monival ci ha dato un report buono. Siamo sulla strada giusta. Sul futuro dell'OIOR si vedrà. Per esempio, la banca centrale del Vaticano sarebbe l'Apsa. L'OIOR è stato istituito per aiutare le opere religiose, missioni, le chiese povere. Poi è diventato come adesso. In merito al dialogo ecumenico e l'auspicata unità dei cristiani, il Vescovo di Roma ha spiegato che esiste un ecumenismo del sangue. Quando in alcuni paesi ammazzano i cristiani, ha precisato, non gli domandano se sono anglicani, luterani, cattolici o ortodossi. Per coloro che uccidono i cristiani, sono uniti nel sangue, anche se tra noi non riusciamo ancora a fare i passi necessari verso l'unità. E forse non è ancora arrivato il tempo. Il Papa ha ribadito che l'ecumenismo è una priorità e l'unità è una grazia che si deve chiedere. In merito all'incontro con gli ortodossi, Papa Francesco ha sottolineato che è un dolore non poter ancora celebrare l'Eucarestia insieme, ma l'amicizia c'è. E parlando degli incontri con i diversi fratelli ortodossi, Bartolomeo, Ilarion, il teologo Ziziulas, il Copto Tavradros, il pontefice ha confessato «Mi sono sentito il loro fratello». Hanno la successione apostolica, li ho ricevuti come fratelli vescovi. Ci siamo benedetti l'un l'altro. Un fratello benedice l'altro. Un fratello si chiama Pietro e l'altro si chiama Andrea, Marco, Tommaso. Tornielli ha dunque chiesto al Papa cosa pensasse delle accuse di alcuni ultraconservatori secondo cui le sue considerazioni sull'economia sono marxiste. Il pontefice ha risposto, precisando che l'ideologia marxista è sbagliata, ma nella mia vita ho conosciuto tanti marxisti buoni come persone e per questo non mi sento offeso. Ha aggiunto che nell'esortazione Evangelii I Gaudium non c'è nulla che non si ritrovi nella dottrina sociale della Chiesa. Il problema è in merito alle teorie della ricaduta favorevole, secondo le quali ogni crescita economica favorita dal libero mercato riesce a produrre di per sé una maggiore equità e inclusione sociale nel mondo. E c'era la promessa che quando il bicchiere fosse stato pieno sarebbe trasbordato e i poveri ne avrebbero beneficato. Il punto è, dice il Papa, che quando è colmo il bicchiere magicamente si ingrandisce e così non esce mai niente per i poveri. E questo non va bene. Infine, in India è stato dissacrato un antico crocifisso. Questo risale al 1880. Ignoto l'autore del gesto. Il cardinale del luogo, Gracias, ha affermato che è una ferita per tutti. Un antico crocifisso è stato vandalizzato e dissacrato ieri a Vilparle, un sobborgo di Mumbai. Per il momento è ancora ignoto l'autore del gesto, che ha sconvolto la comunità cattolica locale. Ad Asia News, il telegiornale del luogo, il cardinale Oswald Grassias, arcivescovo di Mumbai e presidente della Conferenza Episcopale Indiana, sottolinea che questo grave atto di vandalismo al corpo di Cristo ferisce ciascuno di noi e colpisce anche la tolleranza, l'armonia e la pluralità che contraddistinguono la nostra amata città. Il crocifisso risale al 1880 e si trova a lungo la strada principale del quartiere. Secondo la ricostruzione della polizia di Santa Cruz, a cui è stato denunciato il fatto, l'attacco è avvenuto nelle prime ore del mattino. Ad accorgersi del danno è stato un parrocchiano della chiesa di San Francesco Saverio, a Vilparle, che sorge a poca distanza dalla croce. La statua di Gesù è stata staccata dalla croce fatta a pezzi. Il modo in cui la statua di Gesù è stata dilaniata, sottolinea il cardinale Grassias, mi causa immensa angoscia. Le mani sono state spezzate e gettate via. La testa ha una profonda crepa. Solo un piccolo pezzo del corpo è rimasto attaccato alla croce. Il momento, aggiunge, è particolarmente triste, anche perché non si tratta di un incidente isolato. Lo scorso settembre, infatti, la chiesa di San Giuseppe, a Iuhu, è stata profanata. La comunità cristiana è rispettosa della legge e chiediamo a Dio di perdonare questo gesto. Anche noi perdoniamo chi ha compiuto l'attacco e preghiamo per la nostra città, affinché lo spirito di pace, armonia, convivenza e tolleranza reciproca prevalga su ciascuno di noi. Il fedele che ha scoperto l'accaduto racconta ad Asia News, padre Theodor Fernandes, il parroco, mi ha informato subito. La nostra comunità è addolorata per la dissacrazione, perché questo crocifisso esiste da generazioni e persone di ogni fede vi hanno sempre portato offerte. A rendere il fatto ancora più triste, spiega il sacerdote, è che ieri i 37 bambini si preparavano a ricevere la prima comunione nella nostra chiesa. In segno di rispetto, nel tardo pomeriggio, i parrocchiani hanno partecipato a una processione della chiesa, recitando il rosario e pregando. Inoltre, da oggi, fino al prossimo 21 dicembre, si potrà recitare il rosario della Divina Misericordia ai piedi della croce. Oggi il Cardinale Gracias presiderà una messa di riparazione. In conclusione, i nostri avvisi. Lunedì 16 dicembre ha avuto inizio la tradizionale novena in preparazione alla festa del Natale. Siamo tutti invitati nella nostra chiesa di Sant'Ignazio alla novena, che ha luogo ogni giorno una prima volta alle ore 17 e 15 in latino e una seconda volta in italiano alle ore 21. In preparazione alla festa di Natale, è buona cosa avvicinarsi al sacramento della riconciliazione. Per evitare l'affollamento dei penitenti, si consiglia di non aspettare la vigilia di Natale per confessarsi. Si provveda invece a farlo per tempo, tenendo presente che la nostra chiesa è aperta tutti i giorni e qualche confessore è sempre disponibile a ricevere le confessioni, sia nei confessionali, sia nella sagrestia. Ricordiamo infine gli orari delle celebrazioni e il periodo natalizio e potete leggerli di seguito in sovraimpressione. Intanto, vi ricordiamo inoltre il consueto appuntamento con la messa della vigilia del 24 dicembre a mezzanotte, celebrata quest'anno dal nuovo ministro provinciale, il padre Giovanni Azzori. La redazione del telegiornale e tutta l'equipe di Capuccini.tv augura a tutti voi buon Natale e buone feste. Pace e bene. Grazie a tutti.